Quello che la compagine di Cecchini ha scongiurato potesse accadere fino all'ultimo è accaduto. Ieri sera dopo un'estenuante operazione di scrutinio durata più di 24 ore in cui sono state avagliate una a una le oltre mille schede dei votanti, è uscito un risponso inaspettato. Gli eletti nel consiglio di amministrazione dell'ente carnivalesca sono risultati essere nove per parte, nove i soci appartenenti alla schiera del presidente uscente Luciano Cecchini e nove quelli del comitato Pacassoni, nato di recente, per dare valore ai carristi alle manovalanze della cartapesta. Il direttivo dell'ente, l'organizzazione più antica della città, verrà ufficializzato quando il presidente dell'assemblea ordinaria dei soci, il notaio Dario Colangeli, convocherà gli eletti, ma intanto è stata presentata la lista di consiglieri scelti dai tesserati dell'ente carnivalesca al voto domenica 15 maggio. Cecchini in carica per gli ultimi sei anni ha ottenuto 512 voti, nella sua lista sono stati eletti Alessandro Leonelli, Gaetano Bonazzelli, Daniele Filipponi, Francesco Simoncini, Paolo Vicini, Sonia Mariotti, Mario Vagnini e Giorgio Tonelli. Nella lista Pacassoni invece Alfredo ha ottenuto 371 voti, seguito da Fabiola Pacassoni, Maria Flora Gianmarioli, Paolo Pierangeli, Francesca Rosciglione, Stefano Ciavaglia, Claudio Morosi, Michele Gaspari, Giancarlo Panzieri. Ma che cosa accadrà adesso? Sando così le cose l'ente carnivalesca si trova di fatto paralizzata al suo interno, trovare una maggioranza sulle questioni decisionali legate al carnevale sarà un'impresa titanica, a partire dall'elezione del nuovo presidente. Per uscire dal pantano i due gruppi potrebbero optare per una presidenza alternata, un anno e mezzo a testa ad esempio, oppure Cecchini potrebbe essere riconfermato presidente, a patto che, nero su bianco, si impegni a mantenere le promesse controfirmate dai consiglieri dei carristi. L'ultima chance per sbloccare tutto potrebbero essere le dimissioni o la rinuncia, guidare l'ente per il terzo mandato dello stesso Cecchini, limitandosi a fare solo il consigliere. Se non si trova un accordo invece si potrebbe tornare a votare, ma i soci torneranno tutti alle urne, difficile ma non è escluso, certo è che a breve sapremo il destino dell'ente e del carnevale più dolce e antico d'Italia. E' finita pari la corsa alla poltrona di presidente dell'ente carnevalesca e il comitato Pacassoni è riuscito nella sua impresa, forse ha aiutato il fatto di aver presentato una sola lista con 12 nomi, a differenza dei 29 nomi indicati dal direttivo uscente. Soddisfatti del risultato i nuovi consiglieri che hanno appreso con stupore l'esito dei voti e Pacassoni si dice disposto a collaborare con tutti. Prevedevamo che insieme al contributo di tanti anni della carnevalesca, di quanti si sono prodigati alla continuità del carnevale, che anche la nostra iniziativa effettivamente come è successo ha contribuito a riscoprire quei valori spesso trascurati e che si è realizzata in una bella partecipazione. Chi proporrete come presidente? Guarda, io non sono mai stato per i progetti preconfezionati. Crediamo sul concorso, sulla collaborazione di tutti e quindi insieme troveremo anche le persone adatte per rappresentare dei ruoli di responsabilità. Il carnevale promosso con più passione, con più competenza può dare un beneficio alla città. Quindi collaborazione a tutti e a partire dai bambini e dalla tradizione degli anziani. Più duro invece è il commento di Cecchini. Secondo il presidente uscente, qualcuno ha fatto il doppio gioco dentro le cabine elettorali, visto che il numero di voti ottenuti non corrisponde a quelli che si pensava fossero schierati dalla sua parte. Aspettiamo quali sono le vere proposte, aspettiamo quello che ci si metterà sul tavolo a discutere e poi prenderemo le dovute decisioni se ci convenga o meno collaborare. Cecchini è deluso da chi prima faceva parte del direttivo dell'ente e poi ha cambiato compagine puntando il dito contro la carnivalesca creando una lista alternativa alla sua. Nel mio direttivo eccetto due persone perché poi la Gian Mariori si è dimessa da sola, al di là, dice che non abbiamo lasciato spazio, ma questo a me non è una sua opinione, ma noi lo spazio lo diamo a tutti coloro che hanno voglia di lavorare con noi. Oltre a lei i due consiglieri che hanno saltato il fosso per un questione di carattere, è un carattere che io non vado in accordo con Paurero e il suo gemello Ciavaglia e viceversa. Nell'ultimo triennio sono stati quasi più di ostacolo che di collaborazione. C'è da dire che nonostante gli scherzi il vecchio consiglio di amministrazione guidato da Cecchini negli ultimi sei anni è riuscito a conquistare grandi risultati, numeri da record, iniziative e collaborazioni mai avute prima, però consapevoli del successo ottenuto, Cecchini preferisce far parlare i numeri. Per ora si augura di non dover tornare alle urne. Ringrazio le 15 persone che si sono dedicate al seggio, che hanno fatto un lavoro micidiale, due giorni e due notti, veramente a contare numeri, schede, nomi e non vorrei ripetere quell'esperienza lì. Speriamo che questa non serva, ma che si trovi veramente il modo, al di là dei personalismi e delle uscite d'ingegno, carnevale di spessore, carnevale sagra, carnevale bello, carnevale brutto, carnevale moderno, carnevale antico. L'importante è che si faccia un bel carnevale e che faccia bene alla nostra città.